Ciao, sono Luke Newton. Io sono Claudia Gessi. Ed io sono Nicola Coglano e siamo qui per la Word of Complity. Grazie a tutti, ma basta googlarmi! Cosa Bridgerton? Bridgerton significa che non c'è niente che tu non possa fare. Io penso che sia molto più di questo, ma grazie per aver chiesto. Sì. Cos'è successo a Reynolds e Brimsley? Credo che onestamente dovreste dirlo voi a me. È caduto in un pozzo, veramente triste. Ah, è andata così? No, l'ho inventato. Ah, su cosa sarà la stagione 3 di Bridgerton? Romantica. Molti segreti, ma è romantica. Sì, Whistledown. Eloise, nella sua stagione da debutante. Non lo so, succedono molte cose. Ci sono tante cose, davvero, accade davvero di tutto. Quale di Bridgerton? No, che personaggio di Bridgerton sei? Tu sei Penelope. E insieme? Siamo sempre a me. No, davvero, penso che io sono più Penelope che Louise. Io stavo pensando che sono più Penelope che Louise, al 100%. La tua mente deve accettare questo. Deliziose. Sì. Ho le braccia corte. Oddio, ho fatto un casino, scusate. Compleanno. Posso dirlo io? Sì, vai. È il 9 di gennaio. Sì, lo è. Molti mi dicono, sei andata vicino a Natale e ricevi pochi regali, ma non è stato mai vero. Beh, i Capricorno sono delle belle persone, di solito. Nicola Coglant? Oh, le due stagò, sì. Sì, sì. Spoiler. E combino molte cose quest'anno. Nicola Coglant, audio libri. Ne ho fatti alcuni. Uno sulla sensibilità dei sentimenti. Sì, è molto divertente. Poi tu fai diverse voci da sola nella stanza e prendi anche dei soldi. Nicola Coglant, puzza di aio. No, stile. 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 Io devo ringraziare Emi, perché forse per me mi vestirei come una scappata di casa, davvero. Nicola Coglant, red carpet. Sì, ne ho fatti alcuni, ma sono emozionata per Bridgerton, perché è la prima volta come Penelope. Insomma, non ho mai fatto un carpet con lei, perché avevo il Covid. Quindi spero di che non torni. Nicola Coglant, fammi. Coglant, è davvero dolce. Che carini. Non l'abbiamo, però sarebbe una cosa carina da aprire. Sì, tu la faresti. No, diamine, io sono terrorizzata da chi scrive, non so davvero nessuno. Io non sono degli assassini. Claudia Gassi è piena di paura. Bridgerton, albero genealogico, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Hyacinth, Gregory. Oddio. Smettetela di scopare, mamma e papà, siamo troppi. Sì, io rinuncio. Oddio, fai più piano, dai, così rovini tutto. Ma dai. Aspetta. Come trovi i giochi da società di Bridgerton? O mio cognato me ne ha regalato da Natale. Wow. Sì, ma tu lo sai, eri vicino a me. Davvero? Bridgerton, gioielli. Gioielli. Oh, abbiamo dei bei gioielli. Sono molto belli. Abbiamo sempre avuto costumi spettacolari. Grandiosi, abbiamo un bel reparto costumi. Persona simpatica. E costumi per dei personaggi. Bridgerton, personaggio preferito. Penso che questo cambi per ogni persona. Sì, e le fan amano litigare tra loro. Sai come l'ho scoperto? Dici. Insomma, sono divisi tra nazioni e flottano perché è migliore. Voglio ruggire tra loro. Praticamente qui, il credo. Sì. Bridgerton, episodio preferito. Io dirò l'episodio della stagione 1. Il primissimo perché è dove comunque è cominciato tutto questo. E poi è stato quando Ari è una grande entrata e io ero tipo, oh mio Dio! E che non sapevamo nulla della sorpresa. Sì, il preferito. Sì. Bene, grande. Lo butto. Bellissimo show. In quale show Luke Newton ha recitato? Luke Newton ha recitato. Liste mon... Elogge? Sì, sì. Legally Blonde? Sì. Quello del... Sì, sì, il libro di Mormon. Sì, quello di Mormon. Sì. Penso che per show intendano solo questi, non credo anche musical o cose teatrali. Sì, va bene. O forse no. Posso andare? Cosa? Vai. Luke Newton? Con Luke Newton? Cosa? Eh, già. Si è corretto. Avete indovinato. Sì, è lui. Però penso sia giusto per l'altro Luke. Si possono confondere. Sì, sì. Luke Newton? Imparentato con Isaac Newton? Sì, avete ragione. Il mio secondo nome è Apple. Ma non lo so veramente. Come faccio a saperlo? Googlealo. Sei seria? Prossima. Luke Newton? Ma voi siete proprio delle grandi pervertite, eh? Wow. Luke Newton ABS, vi sta perdendo. Ma se avessero sbagliato fosse Luke Newton EBS. Ci provo? Però sì, li vedete nella stagione 3. Sono fantastici, ha lavorato molto per avanti. Li potete suonare come psicofo? Dai, cambiamo discorso, dai. Ok. Smettetela. Band da internet. Ero in una boy band e Nicola mi ha fatto un bello scherzo durante la stagione 3. Il più bel giorno della mia vita. Stavamo facendo una grande scena di ballo e noi abbiamo degli auricolari dove sentiamo la traccia. Sì. E sto per ballare con Nick, o meglio Penelope, e sento l'introduzione. Ed era il singolo della mia band che avevo scritto tipo dieci anni fa, credo. E suonava nel mio orecchio ed ero tipo, oh Dio. Davvero bello davvero, mio Dio. Sì, gli altoparlanti iniziano a funzionare. Sì, poi cominciano a suonare tutto, sembrava una discoteca. È stato un bello scherzo. Luke Newton, nuovo Luke. Il marchio? Sì, se lo vuoi chiamare così. Sei sempre stato bello, non ti servito. Grazie. A me piacerebbe vederti diverso. Sì, ci provo alla prossima. Un anello al naso. Butto via. Oh, Bridgerton confessioni. La rovina della mia invenza. Esistenza, sì. Brucio per te. Sì, e sai una cosa? Anche noi. E nella stagione 3 ci sono le migliori. Costumi. Incredibili, perfetti. Sì. John Glaser nella stagione 3 ci ha fatto innamorare. Sì. È lo stilista migliore sul mercato del mondo, credo. È fantastico. È di New York, è un gel. Ha valigie anche. Ha le valigie? Sì, perché mi ha regalato una valigiera grigia e molto femminile, ma ho detto la prossima volta da me altro. Io preferisco il cibo gratis. Bridgerton, Anthony e Kate. Grazie per la stagione 2. Belli, sì. Molto amati dei fan dei libri, perché sono davvero adorabili. Hanno ancora molto da fare con noi. Visconte e Viscontessa. Devono raccontare ancora tante storie. Sì, sono sicura di sì. Non sono così attraenti. Assolutamente. Vedi a loro. Daphne e Simon. Bridgerton, Daphne e Simon. Sì. Grazie per tutto. Grazie per la stagione 1. Ci avete dato un grande show. E ora siamo qui. Ci hanno mostrato come si faceva. Non avrei mai voluto essere la protagonista iniziale. Sì, grazie per aver iniziato. Grazie mille. Claudia, Jessie e Barca. Ho vissuto in una barca su un canale per moltissimo tempo. Quindi è un po' la mia casa preferita, la barca. Almeno risparmi soldi, credo. Sempre con la buona riappresa. Insomma, non direi molto. Sì, sì, costano. E Louise, si è corretto. Sì, sono io. Avanti. Sì, è lei. Claudia, Jessie, cantante. È molto brava. Ha una voce magnifica. Ha una voce magnifica. Sì, e poi balli bene. Insomma, io non so come fai. Oh, sì, mi ricordo. Sì, insomma, avevamo questo TikTok che tu volevi fare con le comparsi. Sì, è brava lei. Perché avevi visto questo video trend ed io ero tipo, no, non posso fare. No, social media. Falla, canta, retta. E sono anche incredibilmente brava a letto. No, social media. Ed è meglio così, no? Davvero. Io credo sia meglio. Sì. Non mi avrete mai. Sì, le persone me lo chiedono sempre. Io dico, no, non accadrà mai. No, li odio. Vediamo. Luke Thompson. La verità è fuori. Che cosi sapete di nuovo dal set di Bridgerton? Oh, tesoro. Avete visto tensione sessuale. No, ma la gente segue. Ma la gente lo pensa. Ma è tutto il genere a tensione sessuale a tutte. Dai, ogni ragazza che lo incontra è normale. La sua più grande aspirazione. Ho il talento nel farle svenire. Faccio sondaggio. Comunque a me rendono felici le nostre scene. Voglio bene Luke Thompson. È un bravo ragazzo. Allora, ti strappa qua. Che c'è scritto? Skin care. Onestamente, a me della skin care importa pochissimo. Quindi la faccio quando mi va, ma non è una rosa in quotidiana. Sì, sì, sì. Ma per ora la faccio se me la danno gratis. Com'è Bridgerton? Una grande insalata. L'esperienza. Oh, bella. Te l'hai fatta? Io no. Oh, è bellissima. Sì, sono stata a Los Angeles. È stato bello perché erano tutte vestite da, insomma, da vestiti Bridgerton ed io ero vesti anormali, tipo sacco della spazzata. Sì. Lo giuro. Però è stato divertente e tutte mi guardavano come, ma chi è questa? Però davvero è stata davvero bellissima. È molto emozionante. Sì, l'amo. Qual è la canzone? Principale di Bridgerton. Sì, uguale. Non era proprio come la canta lei. Ma dai, è così la canzone. Sta zitto, l'ho cantata bene. Ta 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 ta. Ba 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 ba. Sì. Bridgerton, penso, location. Vuole sapere dove viviamo praticamente. Non ve lo diciamo. Onestamente non lo so. Viva l'onestà, sì. Insomma, è sempre buio quando... E lavoriamo di notte fino alle 5 del mattino. Sì, noi giriamo al buio. Ma sono dei bei posti però. Sono bellissimi. Ma non siamo turisti. Oh, delle volte ci trovate nei parcheggi, sì, durante le paure. Sì, giriamo sempre in un studio. Sì, sta a West London, se volete. Dove Bridgerton prende vita. Nel passato. Cari lettori, 1815. Grazie mille per averci googlato tanto e per supportare lo show. Vi amiamo molto. Googlatemi, eh. Cercate soltanto lei, per favore. Le lasciamo la scena? Sì. Googlatemi.